Voi sapete che c'è stata in questi giorni una grande battaglia sull'aumento delle spese militari? Beh, voi lo sapete male, perché non c'è stata nessuna battaglia sull'aumento delle spese militari, è stata tutta una sceneggiata. Ora vi riassumo brevemente la questione. L'aumento delle spese militari è deciso, avverrà anno per anno nel momento in cui si approva il DEF e verrà aumentato dello 0,4, 0,5, 0,6, fino ad arrivare al 2% del PIL. Le spese militari previste dall'Italia sono il 2% del PIL, cioè del prodotto interno lordo. Vogliamo fare qualche cifra? 2% del PIL vorrà dire probabilmente quando andrà a regime, sperando che il PIL intanto cresca un pochino, intorno ai 40 miliardi, con un PIL di 2 mila miliardi, che era il PIL di pre-pandemia, intorno ai 40 miliardi. Se dividiamo 40 miliardi per 60 milioni di abitanti, sono 700 euro all'anno a testa. Una famiglia di tre persone sono più di 2 mila euro. 2 mila euro, una famiglia media di tre persone spende 2 mila euro per comprare cannoni, mitragliatrici, aerei. Credo che spenda molto meno per l'istruzione del bambino. Se di tre persone c'è un bambino solo, non credo proprio che spenderà per la sua istruzione 2 mila euro. Questa è la scelta che è stata fatta. Si è opposto qualcuno a questa scelta? No. C'è stata però una grande sceneggiata perché Conte, a nome di una parte dei 5 Stelle, ha stabilito che faceva saltare il governo su questa decisione. Ha fatto l'ira di Dio, però non sapeva bene di che cosa stava parlando, credo, anche perché Draghi gli ha detto, scusa ma tu le hai aumentate tutti gli anni le spese militari quando le hai governato più di quelle che sto aumentando io, come mai hai una questione di principio? Il problema è che voi sapete bene, dire Conte e dire principio, beh insomma c'è un po' una contraddizione, sono due parole che come si dice, ossimoro, non ha mai avuto un principio, ma mica perché è un uomo senza principi, è semplicemente che non li conosce, gli hanno detto ora fai il pacifista e lui si è messo a fare il pacifista, ma come fa a fare il pacifista? Non so quanti anni ha, ce ne avrà 55, 60, puoi cominciare a fare il pacifista a 55, 60 anni senza sapere nulla. Ecco questa è la cosa che a me un po' colpisce, a me colpiscono due cose, uno che la scelta di militarizzazione, non scherziamo, è una scelta di militarizzazione perché investire in un campo o nell'altro per un governo e per una classe dirigente è la scelta politica di fondo, si può stabilire un grosso spostamento di risorse a favore dell'energia, del nucleare, a favore della scuola, a favore dei trasporti, la scelta che abbiamo fatto è a favore del militare, sviluppare l'industria militare, sviluppare il commercio militare, puntare sulla guerra. Non è che io sto dicendo cose folli, la questione è questa, puntare sull'industria di quel materiale che serve per la guerra. Questa è la scelta di fondo che viene fatta e io la trovo una scelta folle, anche perché, ve lo dico, non so se autocitarvi, insomma io da quando sono ragazzino sono pacifista e quindi sono contrario a queste scelte, sono anche antimilitarista. La questione è che è nato, questo è surto improvvisamente, un movimentino pacifista che però sbanda perché i poverini non sanno nulla, appunto Conte, i Cinque Stelle, non hanno mai partecipato al dibattito pacifista, alle lotte pacifiste, ai cortei, alle manifestazioni, alle opposizioni alla guerra, non è che questa è la prima guerra che avviene dal 1945. È stata bombardata a Belgrado, per dire, una grande capitale europea è stata bombardata per due mesi, qualche anno fa, nel 99, una ventina d'anni fa, io me lo ricordo perché ero lì, ero a Belgrado e vedevo le bombe cadere e mi dispiaceva molto perché sapevo che molte erano lanciate da aerei italiani, quindi non è la prima volta che si pone la questione pacifista, a me questo dà un po' fastidio, l'idea di inventarsi il pacifismo come clava per colpire il governo Draghi, io apprezzo molte cose del governo Draghi, molte non le apprezzo, vi ho appena detto non apprezzo la scelta militarista, ma non è che si possono usare dei principi che peraltro non si conoscono per attaccare il governo Draghi, volete guardare il fatto quotidiano? Ora non mi dite che travaglio una storia pacifista, lo conosco da tanti anni, uno atlantista come lui, io non l'avevo mai conosciuto, neanche al Corriere della Sera, neanche Paolo Mieli, improvvisamente però per colpire Draghi diventa pacifismo, ma non può essere questo il pacifismo, perché il pacifismo si basa su un principio, i mezzi valgono quanto i fini, quindi non cottano le tattiche, ma contano i progetti, io sono preoccupato anche per questo, da una parte sono contento, vedo arrivare tanti pacifisti nuovi, mi fa piacere, ma un pacifismo così imbroglione, così ipocrita, rischia di annientare il pacifismo, che infatti mai come in questo momento è in crisi. Grazie.